molto bene ragazzi dopo aver speso 40 minuti a girare per il grande cristallo finalmente possiamo dire di essere arrivate alla cima camprmaidol come cavolo si legge quella cosa ragazzi siamo praticamente a un passo dalla cima del cristallo questo portale porta alla cima di questa strada porta alla cima del cristallo dove si trovava ultima l'angelo ragazzi quindi ovviamente ci equipaggiamo di tutti i status alterati più positivi di sempre che sono pre tutto bolla adesso e poi equipaggio anche gli altri con bolla adesso ragazzi siccome ultima è strada difficile come esper molto molto difficile anche se di livello 60 ho comunque paura perché ragazzi il brutto di ultima ragazzi la cosa bruttissima di ultima è che come dire ha tipo un campo di forza diverso ogni 30 secondi proprio 30 secondi contati e 30 secondi e ogni 30 secondi proprio 30 secondi contati c'è un capo di forza diverso che rompe la palla noi e da una mano a ultima quindi magari non avevamo problemi forse perché a di livello 60 forse perché a 158 mila punti vita comunque sostanza abbiamo affrontato già un super cercato che va prima lo stesso numero di prima comunque si avevo problemi più che altro per i capo di forza stramaledetti quindi devo preparare tutti e sei personaggi come a dove e quindi metto tutti e sette status alterati a tutti quanti ho dimenticato l'igiene assolutamente magari me la cavo perché per appunto sono di venti livelli più forte ma comunque non mi fido non mi perché ho brutti ricordi con ultima ho veramente brutti ricordi poi sistemiamo anche loro adesso quindi e Sì, sì. Siamo più pronti che mai. Adesso salvo addirittura nel caso Morissimo che non mi debba rifare tutti i potenziamenti. E io direi che possiamo finalmente andare. Pronti allo scontro con l'ultima l'angelo. Quindi mi devo preparare. Mi devo preparare psicologicamente perché è da tempo che non l'affronto ma ho ricordi terribili. Fa che questa volta sia più preparata, più pronta. Oh mio Dio, l'agitazione. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Accercamento iniziale, fantastico. Eccoci qui, quindi ragazzi. Contro ultima l'angelo. Come vedete stiamo già facendo abbastanza male. Ma fra 30 secondi partiranno i campi di forza romperci i magoni. Allora adesso vedete che gli stiamo facendo tanto male per fortuna. Allora l'ordine è prosciuga HP, prosciuga MP, comando attacco disabilitato, comando magia disabilitato, comando tecniche disabilitato, comando oggetti disabilitato e campo magnetico cioè che ci rallenta. Terrificante ragazzi, terrificante. Voi attaccate, io penso. Terrificante ragazzi. Fa che riusciamo a farla fuori in meno tempo possibile. Cavoli salsa. Ti prego fa che le maschere neanche funzionino. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Buon tonno. Mio Dio ragazzi, il godimento, sto godendo. Da, sono morto, è morto. Il godimento è quando, è a ogni 60 secondi o ogni 30 secondi? Ah, è a ogni 60 secondi, mi sa. C'è andato via, l'hacer, non va bene, via. Tutti hacer, tutti hacer. il capo di rigenerazione svanisce il mhp non scendo più in compenso siamo morti abbiamo perso abbiamo perso tutti i punti vita ragazzi aspettate allora in questo caso dobbiamo sistemare il gambit per questi 60 secondi e a ogni 60 secondi o no ogni 30 secondi allora è il tempo che passa molto lento ok ci ha dato pure il reflex il reflex lo possiamo togliere con l'esina penso comunque sia continua ad attaccare solo me meno male saltaggio un'altra volta non so se adesso che c'erano il reflex il sito dino buon stand forse noo te lo 22 ho capito adesso ho capito la sua tecna roberta e Eh, niente attacca E allora siamo fottuti E allora adesso Eh Allora adesso ci sistemiamo un secondo Allora Grandeteri, grandeteri Grandeteri che Ci servono a tutti e tre Ho capito adesso cos'era quella roba Che ti uccideva in un secondo Quando una volta tirato Sanktasia Perché Sanktasia come avete visto Mette lo status rovescio Con lo status rovescio Se noi ci tiriamo una magia coattiva ci fa male Quindi lei tirava Megaene Che è la magia che ho usato anche io poco tempo fa Che è quella che se ci pensate Che toglie Se ci pensate Quella che toglie Non faccio resna Perché vedo che mi sta per tirare il flego un'altra volta Se ci pensate Megaene è quella che ho usato prima La magia che ho usato prima Per rigenerarmi tutta la vita Ma con lo status rovescio Fa l'effetto opposto Quindi se ti rimagarene con rovescio Ti ammazzi un colpo Quindi ho capito Vedi qui l'infame Adesso le tiro I Dark Haga Che immaginate Lei dell'elemento sacro Sta stradebole All'elemento buio Sì non me ne frega tanto Ti ho fatto male Ti ho fatto male Mi ha fatto male anche lei Lei è femmina Sono sicuri che è femmina Perché si chiama Ultima E da una lei Cioè Perché si vede che è una femmina Cavolo Non possiamo dire che sei un maschio Raga A questo fa Poi mi si disattivano le magie Se tu lo scommettete No lo tiro prima io Lo tiro prima io Eh eh Vedi Rispettare i turni No comunque non fette Per fare tutto il giro Dei comandi disabilitati Perché la facciamo fuori Prima spero Eh rovescio Eh Cazzo Stanno per invogliere Le persone Sono sopravvissuti Come Come hanno fatto Sopravvivere Ah Ne hanno sopravvissuti Però per un momento Ci avevo sperato Ultima ci ha provata Tiamo un'altra volta Energica Però non sei riuscita Perché hanno già morti prima Ecco a volte è un po' ottima Sta cosa che Quando ti ammazza Però ti tia Ti ammazza Perché ti ha un'altra volta La magia curativa Che tu hai già perso il rovescio Ti cura Involontariamente Tipo un'altra No diavolo Sono finiti Eh Che si è attivato Il campo che ci disattiva Le magie Vabbè Allora noi pensiamo A Non ho capito Come mai Quando la colpisco Mi faccio male Non ho capito Non ho capito Sta cosa Ehm No Volevo mettermi Le haste Ve l'ho dimenticata Che adesso c'è il campo Che toglie Le magie Le magie Scheggia Levitaga Obliter Di chi un'altra volta E da Comunque Infame Ragazzi ma le manca pochissimo C'ho un'altra scheggia Dark Si Ne ho altre due Gli altri due Ragazzi Tirateglele No No Li tolgo Non li tolgo Niente Perché Dark È debolissima Come magia Comunque ho capito Che ogni volta Che Farsa La taggia Sta per finire I 30 secondi Stanno per finire Cavoli Ragazzi È attirato 100 volte Oh Ragazzi Un colpo Ragazzi Uno O due colpi No Non le botta Un attimo Vai così Vai così Vai così Vai così Vai così Stavo Te che sono Adesso Aperte gli occhi Cioè Perché se non Avete notato Nell'introduzione Aveva gli occhi Chiusi È tipo Vabbè Eccolo qui Il cristallo Di ultima Bellissimo Che dal video Non si vede Per niente Ho visto Però Fantastico Signori Signori Ce l'abbiamo fatta E ho ottenuto L'esper Ultima L'angelo E' il dodice Il dodicesimo Il dodicesimo Esberg Ce l'abbiamo Adesso ci manca L'ultimo Esberg L'ultimo Esberg Batteria Il 36% Penso che Allora Innanzitutto Intanto Vedete che Solo quando C'era Qua Ultima C'era Luce Adesso È ritornato Adesso È tutto Buio Eh Allora Adesso devo Decidere Se Mentre Torno Giù Mentre Esco Dal cristallo Metto In pausa No Fermo La registrazione E metto In carica Tablet Per un pochino Oppure Se Fermo E Vi mando La prossima Volta Penso Che Ma Sì Dai Ragazzi Ce la faccio Ce la faccio Lo sconfiggiamo Oggi Lo sconfiggiamo Oggi Se abbiamo sconfitto Ultima Sconfiggeremo Anche Lui Lui Che Stavolta È Un maschio Innanzitutto Tolgo La cittura Bolla E Metto La stola Pulcino Stavolta Tutti Ecco Fatto E Poi Salvo Assolutamente Salvo E Quindi Sì Penso Che Adesso Metterò In carica Il tablet Tanto Adesso Per tornare Ad La ora Che Arrivo Al fondo Del cristallo Perché Ho intenzione Di uscire Dal Ho intenzione Di uscire Dal Cuore Del cristallo Dal Trasporto 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 Dal Trasporto Che C'è Nel Cuore Del cristallo Quindi Fatevi conto Che Devo Fare Praticamente Devo Scendere Da giù Dal cristallo Praticamente Penso Che Pegerò Poco Perché Ormai Abbiamo Aperto Tutte Quante Le porte Ma Comunque Sia Vedo Che C'ho Ancora Il Reflex Allora Adesso Provo A Fare Vediamo Se Con L'esda Va Via Un Cazzo Va bene Allora Dovevo Aspettare Che Passi Da Solo Non C'ho Armature Che Frega Vero No Che Non Finisca Come L'altra Volta No Maximilian Nella Solita Che C'ho No Ok Perfetto No Perché Se C'avevo Armature Che Frega Non Mandavano Più Vero Comunque Quindi Ci Vediamo Dopo